Salve a tutti, sono l'avvocato Eugenio Gargiulo e non potevo esimermi dal registrare questo breve video messaggio cogliendo l'occasione per ringraziare tutti voi utenti di internet e navigatori del web per quella che è una notizia inaspettata e che per questo mi inorgoglisce ancora di più che mi è appena giunta ovvero l'essere stato proclamato dalla Google Zeitgeist, autorevole Bibbia del mondo del web come l'avvocato italiano più cliccato, ovvero più letto del web per l'anno in corso naturalmente questa inattesa e sorprendente notizia mi inorgoglisce e mi spinge a non deludervi per il futuro e quindi alla promessa di continuare a scrivere per voi e a fare sempre meglio un abbraccio affettuoso e arrivederci a presto grazie a tutti grazie a tutti